Tu hai questa passione un po' feticista per le pagine bianche, che è una cosa così anni 80? Cioè fai ancora, dimmi la verità, fai gli scherzi telefonici? Allora, no non posso dire, non posso sbilanciarmi troppo su un podcast perché poi dopo non vorrei compromettere alcune persone ma su Pagine Bianche è bello, almeno io mi diverto dagli anni 90 davvero, a usare chiavi di ricerca buffe per trovare persone che si chiamano con cognomi buffi e ce ne sono alcuni che sono veramente imbarazzanti a parte le solite leggende che si sentono da ragazzini tipo culetto rosa, quelle robe lì ma esistono davvero delle persone che si chiamano con nomi molto... Tromba d'aria Molto buffe e io tengo una mia rubrica laterale di persone con il nome buffo e sogno così nei momenti di noia o di radunare tutti in un posto solo Certo, Erminio Ottone Erminio Ottone, sì, questi sono quelli fake che si dicono... Senti ma, la cosa che a me stupisce è che se io dovessi analizzare questo dato e solo questo dato penserei che tu non hai niente da fare nella tua vita, capisci? Allora, è vero, sì E invece sei un uomo, sei uno delle persone più impegnate che conosca Ti spiego una cosa, che in quanto sviluppatore H24 ho notato una caratteristica non è che riesci sempre a scrivere codice ogni tanto c'è bisogno di staccare la mente dal problema che stai risolvendo in quel momento con un qualche stronzata per poi ritornare sul problema ad avere un punto di vista più lucido e quindi io uso tutti questi escamotage Certo, sono degli escamotage che ti servono a te per staccare pensa che bella vita E vabbè, intanto siamo in quarantena adesso ho anche l'alibi Ah guarda, questo è vero, questo è vero il problema vero è che l'hai sempre fatto L'ho sempre fatto anche prima della quarantena, sì Comunque, a mia discolpa posso dire che ho sempre solo sognato di fare degli scherzi telefonici ma non li ho mai fatti però purtroppo su Pagine Bianche trovi tutte le generalità indirizzo al numero di telefono di queste persone col cognome Buffo Comunque pare che adesso siano tornati molto di moda gli scherzi telefonici perché la gente è a casa che si annoia Esatto, il telefono fisso Il problema è che si chiami al telefono fisso nel 2020 cioè trovi una fascia che va dagli 80 ai 105 anni Che è quella più a rischio adesso Oltretutto, quindi non solo rischiano di morire ma hanno anche un esercito di coglioni che li chiama a casa per fare gli scherzi telefonici Cioè pensa che è brutta la quarantena per le persone, per i nostri poveri anziani È veramente una situazione kafkiana È veramente una situazione kafkiana Sei pronto, Guy Brascino? Sì, sono pronto Che cosa hai preparato per i nostri ascoltatori oggi? Ho preparato un pezzettino di Mozart che sto cercando di fare imparare a mia figlia A Eterea? Sul pianofortino, quello piccolino Caspita, caspita Molto bene Quindi che sigla della sigla classica E fa così Sigla Grazie a tutti Benvenuti amici Ciao Ciao Guy Brascino Ciao Ricky Benvenuti a tutti Hai saltato la parte più bella E qual'era? Quella dopo Eh, la vuoi fare tu? Così finalmente non sono l'unico scemo che fa le musichette Ma scusami, non ho capito bene una cosa Sì Ma tu gliela fai suonare al pianofortino o gliela canti? Gliela faccio io e poi lei la prova a rifare E per adesso siamo arrivati al tasto 1 Aspetta, ma quindi è una bambina prodigio? Forse sì, forse no Forse sa schiacciare solo il tasto 1 Per adesso siamo al tasto 1 Just push play Just push play Amici benvenuti Episodio numero 13 Di Di Indovinate un po' Del Bitcoin Italia Podcast Ebbene sì Siamo sempre noi Ricky e Guy Brash Che ogni giovedì Vi raccontiamo le ultime Tutto ciò che è necessario sapere Sul mondo del Bitcoin e delle criptovalute Rigorosamente in lingua italiana Caro Guy Brash Sì È stata una settimana particolarmente affollata di mail Di comunicazioni e di segnalazioni Da parte dei nostri utenti e dei nostri ascoltatori Vero, vero Ci hanno scritto in tanti Ci hanno segnalato un sacco di cose E non siamo riusciti ovviamente a leggere Esatto Praticamente pure troppe Devo dire la verità Però ragazzi non vi preoccupate Che noi siamo lì È soltanto che abbiamo la nostra età Quindi siamo dei Pentium 2 Dovete lasciarci tempo Questa va nella lista delle cose boomer Esatto Quindi dovete lasciarci tempo di processare Però vi ricordo che La NASA è andata sulla Luna Con molto meno di un Pentium 2 Quindi nessuno ci distoglierà dal nostro destino Non posso andare oltre Perché se no la puntata finisce qui Allora Al sesto minuto E qualcuno di voi ne sarebbe molto deluso Però è la verità Che la NASA è andata sulla Luna Con molto meno di un Pentium 2 Quindi non è il processore Che fa il monaco Esattamente Non so dove vuoi arrivare Ma sono d'accordo con te No in realtà mi sono un po' perso Però adesso ritorno Ritorno in traccia E la traccia qual era La traccia è che Tanti di voi ci scrivono E nonostante se a volte Siamo un po' lenti A processare le informazioni Non smettete di farlo Perché anche se magari Appunto ci mettiamo un po' Non rispondiamo sempre In puntata Siamo un po' lenti Nel rispondere delle email Vi garantisco che Leggiamo tutti E che Tutto è utile E tutto Molto spesso Dalle vostre email Nascono Degli spunti Che poi Ci aiutano A costruire La traccia Degli episodi Del Bip Show E questo episodio Numero 13 Del Bip Show Non è da meno Esattamente Sì abbiamo usato Alcuni spunti Che ci avete segnalato Tra le altre cose I due ci hanno segnalato La stessa cosa Quindi ne parleremo Esatto esatto È stata una roba pazzesca Però questa cosa qui Questa storia qui È stata un po' Un coito interrotto Non pensi Guybrush In che senso Che metafora Silva Il coito interrotto È il coito interrotto No no Certo È un anticoncezionale Poco efficiente Esattamente È molto faticoso È un coito interrotto Perché Immediatamente Allora Aspetta Facciamo un preambolo Sì In tanti di voi Ci hanno segnalato Una intervista A Giacomo Zucco Che è andata In onda Su Radio 24 Se non vado in rato Sì sì Giusto Corretto Allora Solitamente Quando in più di una persona Ci segnalano Un'intervista Ti sale Una gas da flame Pazzesca È come quando Ci hanno segnalato Il podcast di Carbone Sulla scuola austriaca Esatto Non toccare la scuola austriaca Come quando vai a Palermo Non toccare le banane E quindi Tutti Sia io Che Gaibro Ci siamo precipitati Perché abbiamo detto Chissà che cosa Tutti ci segnalano Questo contenuto Come così Hot E Outrageous Come si dice Irriverente Probabilmente È perché Ci stanno Stanno seminando Zizzania E quindi Ci sarà del succo Da commentare In puntata E in realtà Devo dirti la verità È un po' Stato un coito Interrotto Da questo punto di vista Nel senso che Abbiamo sentito L'intervista A Giacomo E Tutto sommato Siamo Molto d'accordo Con Quasi totalità Delle cose Che dice Sì sì Assolutamente Anzi Io credo che Per lui ormai Che fa questo Mestiere di divulgazione Da anni Fa anche il docente Di Bicademy Quindi Spiega queste cose Probabilmente Otto volte l'anno E nei vari corsi Per lui è stata Un po' Una passeggiata Di salute Perché era proprio Un discorso Introduttivo E un po' Di debunking Sul tema Di blockchain Quindi ha detto Tante cose Molto condivisibili Ma anche molto Come dire Alcune anche ovvie Ecco insomma Per chi si occupa Di questo tema Da tanto tempo Però la sua abilità Era uno speech in radio La sua abilità È chiaramente Di riuscire a parlare Di questi temi Molto complessi In una maniera Abbastanza digeribile Anche se ci sono Tanti inglesismi Che probabilmente Le persone Che non Non masticano tanto Quindi gli ascoltatori Dell'ard Di una radio nazionale Radio 24 è nazionale Sì sì Quindi magari qualcosa È sfuggito Degli ascoltatori Però lui è sempre Ineccepibile Quando parla Di questi Temi No è brave Bravo Facciamo un attimo Un passo indietro Perché noi diamo per scontato Che tutti i nostri ascoltatori Sappiano chi è Giacomo Zucco Invece questo Non è detto Giacomo Zucco È un Bitcoiner Che Credo di poter dire Senza timore Di essere smentito Probabilmente È uno Dei Bitcoiner Per italiani Più Blasonati Diciamo Più Anche conosciuti A livello internazionale Il più Il più famoso All'estero No Ma io credo Proprio di sì Nel senso Che francamente Se tu mi dovessi dire Chi è Delle Delle personalità Del mondo Del bitcoin Italiane Che Hanno più Interazioni Di Qualità Oltretutto Con la scena Diciamo Internazionale Dello sviluppo Nel mondo Bitcoin A me Francamente Non ti saprei dire Chi altro Chi altro Menzionare Quindi ti direi Sicuramente Giacomo Sono tanti Ha investito Ha delle aziende Con sede in Svizzera Ma con Figliali Anche a Milano Che Lavorano Nel mondo Della blockchain E del bitcoin È un Massimalista Bitcoin E soprattutto È un ottimo Divulgatore Io ho seguito Alcune Sue conferenze Sia in Italia Che all'estero E devo dire Che è uno Di quelli Che io Personalmente Apprezzo Tanto Perché Tiene Con la stessa Comodità I piedi In due scarpe Sia Mette con la stessa Facilità La scarpa Anglofona E la scarpa Italiosa Questo In Italia Non è Sempre scontato Ed è sicuramente Un valore Aggiunto Infatti Non è un caso Che venga Contattato Anche diciamo Dalle testate Più generaliste Come Radio 24 Per parlare Di bitcoin E questo Ovviamente È solo Un bene Che accada Anzi Ci sarebbe Bisogno Di tanti Piccoli Giacomo Zucco Che Possano avere Tanti piccoli Spazi In tante Più In quante Più Trasmissioni Radiofoniche E televisive Nazionali Possibile Perché Ve lo diciamo Da quando abbiamo Deciso di avventurarci Il motivo Il motivo per cui Questo podcast Esiste È proprio Provare A portare A più orecchie Possibili E a spiegare Questa tecnologia Anche in questa intervista Giacomo Non è stato da meno Noi ve la consigliamo La troverete Linkata Negli episodi Di questo episodio Numero 13 Del bip show È un discorso Generale Quindi chi Segue Il bitcoin italia Podcast Non sentirà Là dentro Grosse novità O grosse cose Che già Non conosca L'unica cosa Forse Sulla quale Non c'è da Correggere Ma c'è Secondo me Da aggiungere È La parte In cui Giacomo Parla Degli sviluppi Potenziali E degli utilizzi Attuali Di bitcoin E blockchain No? Sì esatto Lui anche Su tweet Non ha mai Fatto mistero Del fatto Che Blockchain Sia Un termine Abusato Nel Nel marketing Aziendale Nel mondo Delle consulenze Perché tantissime Persone Probabilmente Sfruttano Questa parola Magica Questa buzzword In Per Diciamo Stimolare L'effetto Wow In tutti quelli Che sentono Questo termine Non sanno Che cosa sia E quindi Vendere Le proprie Servizie In sostanza Però Secondo me Lui a un certo Punto Della 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 Intervista Dice che Le Applicazioni Della tecnologia Blockchain In senso Stretto Si contano Sulle dita Di una Mano E quindi Massimo Cinque Perché Le dita Della Mano Sono Cinque Però in realtà Anche Della mano Di Giacomo Zucco Anche Della mano Dell'addetto Alla sega Circolare No Lì sono tre E lì bisogna Stare attenti Perché Se non stai Concentrato Può diminuire Il numero Io invece Non sono Di questo avviso Cioè Secondo me Blockchain Come tecnologia Ha bisogno Di uno studio Approfondito Di una comprensione Ha bisogno Di essere Interiorizzata Come tecnologia Cioè Noi la sappiamo La conosciamo Perché è stata Introdotta Dai cypherpunk Prima E ufficialmente Dal white paper Di Satoshi Nakamoto Poi E c'è un'applicazione Che tutti conosciamo Che sta funzionando Benissimo Che è quella Finanziaria Grazie al protocollo Bitcoin Però Io Non sono così sicuro Che le applicazioni Siano davvero Così poche Nel senso che C'è bisogno Di Osservatori E studi Approfonditi Cioè bisogna Osservare L'evolversi Della tecnologia Il propagarsi Nel mondo reale Tramite anche Magari un sacco Di idee di merda Senza usare Eufemismi Cioè Dovriamo anche Pagare il prezzo Di vedere Utilizzare La parola Blockchain La tecnologia La tecnologia Blockchain Anche in progetti Che non hanno senso Che non ha senso Dotare di una Blockchain Vederli fallire E capire da lì in poi Dove Ha senso Utilizzarla D'altronde Secondo me La stessa evoluzione Di internet Ha funzionato così Eh sì Abbiamo visto Un sacco Di Anche lì Non so se ti ricordi Il periodo Di web 2.0 Nascono sempre Queste terminologie Di stampo giornalistico Che servono Per far digerire Delle novità A delle persone Che non si occupano Di queste cose Tecnologiche Che le magari Diventeranno Degli utenti Di questa cosa Ma tu non puoi Andargli a spiegare O raccontarli Come notizia Web 2.0 Ah sì Chiamate asincrone Verso dei server web Tramite una tecnologia Che implementa Cioè non puoi dirgliela così Gli dici Web 2.0 Poi dopo Tante persone Che magari Non sono competenti O magari Pensano di essere competenti E si rivelano Non esserlo Utilizzano la terminologia Per menere la propria conseguenza Falliscono E da lì però È venuto fuori Che cos'era Il web 2.0 Il cambio di paradigma Per esempio Da sito web Con pagine statiche A applicazioni distribuite Quindi È nato Quello che conosciamo adesso Il web che conosciamo adesso Poi dopo Da lì in poi Hanno fatto il web 3.0 4.0 Ogni anno Nesce una versione nuova Tutta teorica Comunque Era per dire Che secondo me Blockchain Funzionerà più o meno così E non sono Non sono solo io a dirlo Nel senso che Vi avevo già parlato Di Hyperledger Di questo super consorzio Che racchiude Sotto il suo ombrello I progetti blockchain Che si basano Su blockchain Più interessanti Ed è chiaro Che anche da lì Magari escono Delle cagate Non è che sto dicendo Che il blockchain Come dice lui Come dice Giacomo Nell'intervista È la polvere magica Che risolve Tutti i problemi Però da lì a dire Che Sotto forma di sentenza Che ci sono Tre idee buone Che vanno su blockchain E poi basta Non ce ne saranno più Non so Mi sembra Un'affermazione un po' audace Ma diciamo che Giacomo È un po' audace Nelle sue affermazioni Sì Sì Poi nel senso Io adesso sto parlando Di In questi termini Di una persona Che non conosco Perché ci siamo incrociati A qualcuno degli eventi Che lui ha organizzato Però non siamo amici Io e Giacomo Zucco Però lo seguo Lo stimo E spesso anche Vedo un attimino Qual è il tono Dei suoi tweet Delle sue comunicazioni Ha questa sua caratteristica Che appunto Ha un modo di comunicare Che è un pochino tagliente Quindi credo che Anche questa affermazione Possa essere giustificata Leggendola In questa ottica È evidente però Che nessuno Neanche Giacomo Zucco A questo mondo Ha la palla di cristallo Quindi sa Cosa E quali potrebbero essere Le implementazioni Vincenti Di questa tecnologia Così giovane Ognuno di noi Può fare delle ipotesi Al netto Della propria Delle proprie conoscenze E delle proprie capacità Poi c'è chi Le proprie ipotesi Le argomenta In maniera Più decisa Come magari Può fare Caratterialmente Uno che ha il carattere Come quello di Giacomo Chi magari Le fa in maniera Un po' più Scanzonata Come Guybrush Il cagionevole pirata Però poi Sul piatto Della bilancia Entrambe hanno Esattamente La stessa valenza A proposito Delle Vai Ti dico Un'aggiunta Rispetto al Perché secondo me Considero audaci Tutte le previsioni Attuali Sul dire Il numero Di applicazioni Della tecnologia Blockchain Se ci fai caso Allora Come dice anche Giacomo Zucco Nell'intervista Blockchain è un modo Di salvare Dei dati In una maniera Distribuita Ma a parte Tutto Quello che Concerne La decentralizzazione Blockchain Cambia un pochettino Il nostro Modo intuitivo Di pensare I dati Salvati Nel Salvati Da qualche parte Cioè l'idea di salvare Dei dati Noi fino Dalla scuola Dell'obbligo Siamo portati A pensare E anche Abbastanza Intuitivamente A dei dati In maniera Bidimensionale Cioè Siamo abituati A utilizzare Il concetto Di tabella Ci insegnano Fino dalla matematica Base Delle elementari A fare le operazioni In colonna A mettere le righe Righe Colonni Quadratini A fare E noi siamo portati A pensare Che i dati Vengano gestiti Sempre tramite tabelle Che in realtà È il metodo Sulla quale si basa Il 95% Di internet Cioè Tutti i database Per la maggior parte Sequel Sono SQL Cioè Structure query language E sono organizzati Tramite tabelle Che è il modo Più intuitivo Che ha un essere umano Di pensare A dei dati strutturati Una serie di tabelle Relazionate tra loro In cui Sulle righe Abbiamo gli elementi E sulle tabelle E sulle colonne Abbiamo le proprietà Di determinati elementi Per esempio Io e te Siamo due persone Quando siamo Due righe Di una tabella E abbiamo Delle caratteristiche Quindi abbiamo Un nome Un cognome Una data di nascita Un'altezza Un numero di scarpe Queste sono proprietà E sono le colonne Di una riga Che potrebbe essere La tabella Gli host Del Bitcoin Italia Podcast Blockchain invece Introduce Una maniera Un po' controintuitiva Di salvare Questi dati Noi possiamo Salvare sì Lo stesso dato In maniera bidimensionale Quindi Una relazione Chiave valore Quindi Altezza Per esempio 180 Numero di scarpe 44 Però Aggiunge Una sorta di Terza dimensione Che è quella del tempo Cioè Andiamo a salvare Come se Come se la tabella Diventasse un cubo Come se le righe Di questa tabella Si propagassero Non solo verso il basso Come conosciamo La tabella Ma anche verso L'interno del foglio Verso la profondità Tridimensionale In maniera tridimensionale Questo è Molto controintuitivo Rispetto al modo Che abbiamo di ragionare Rispetto allo strutturare Progetti Startup Budget Finanziari Qualsiasi cosa Elenchi Liste Prenotazioni Per questo Ti dico Che secondo me Non è immediata L'applicazione Su larga scala Della tecnologia Blockchain Secondo me C'è bisogno Di interiorizzare Prima Questo meccanismo Nuovo Di Storage Dei dati Dopo Possiamo vedere Dopo aver visto Anche tante idee Di merda E fallimenti Come in realtà Stiamo vedendo Da qualche anno Le famose ICO Tutte le varie Criptovalute Che sono Naufragate Che sono state usate Solo per speculazione Però una volta che avremo Interiorizzato Questo concetto Di Variazione Del dato Non solo In termini di proprietà Ma anche in termini temporali Quindi mettendogli un timestamp E vederlo E vedendolo variare Allora secondo me Da lì In poi Potremmo vedere Aumentare I progetti Che hanno un senso Nell'utilizzare La blockchain Certo No no Condivisibile È sicuramente Un concetto Talmente nuovo Che Occorre del tempo Come dici tu Per Immaginarne Un'implementazione Davvero efficace E Resta il fatto Che appunto Al netto Delle varie affermazioni Che ognuno di noi È liberissimo Di fare Nessuno Ha la verità In tasca Comunque È vero Che ci sono Poi Delle Organizzazioni Che Si pongono Come obiettivo Quello di Tracciare Tenere Conto Di quelle Che sono Le Possibili Applicazioni Più interessanti Che Vengono Fatte Al mondo Di questa Tecnologia Una È quella Che hai Già Citato Tu Che è Hyperledger Di Linus Thorwald L'altra Però Viene Dal Politecnico Di Milano No se non Sbaglio Sì esatto È quello Che si definisce Per eccellenza Un osservatorio Accademico Cioè Sono degli Studiosi Degli Accademici Quindi Le persone Che lavorano Nell'ambito Universitario Quindi Professori E ricercatori Di fatto Che creano Un gruppo Di lavoro Che Il cui Obiettivo È quello Di Osservare L'evolversi Di una Tecnologia Tirare Le somme Ogni anno Di progetti Andati a male Progetti Che hanno Successo Applicazioni E Capire Dove Sta andando Una tecnologia Al fine Di generare Maggiore Conoscenza Di una Novità Di indirizzare I possibili Interessati No? Sì esatto Di indicizzare Un po' I vari Ambiti Dello sviluppo Di una Tecnologia Nuova Esatto Quello di cui Stiamo parlando In questo In questo Frangente È l'osservatorio Blockchain And distributed Ledger Del Politecnico Di Milano Che ogni anno fa Organizza una conferenza E sono Collaborano i dipartimenti Di ingegneria gestionale E di elettronica Quello che ho fatto io Saluto tutti quelli Che mi conoscono Cioè nessuno Perché non andavo mai Asco in classe E niente Questi hanno il compito Di generare Dei report Di guardare Di fare un elenco Di seguire Per esempio Tutti quelli Che ci segnalano Tutti i progetti Che ci segnalano Questa settimana I nostri ascoltatori E scritta Chain E i vari Servizi Ecco Il nostro lavoro Purtroppo Non è quello Di fare L'osservatorio Di questi progetti Però il concetto È quello Loro prendono Per esempio Uno di questi progetti Lo seguono Leggono il white paper Vedono come funziona Se sta funzionando Come si muove Lo sviluppo Qual è l'applicazione Qual è il problema Che si promette Di risolvere Fanno un sacco Di statistiche Di studi E poi traggono Delle conclusioni Ogni anno Rilasciano Dei report Nella quale Delineano Sette filoni Principali Quindi le definizioni E le caratteristiche Di un progetto I suoi ambiti applicativi Come utilizzano La tecnologia La sua sicurezza Se sono attenti Alla privacy Se ci sono stati Investimenti Il livello di interesse Del mercato Se c'è stata Un'innovazione Se c'è una regolamentazione Se sono andati A cozzare Con una normativa Una regolamentazione Esistente O se necessitano Secondo loro Di una nuova regolamentazione E poi il classico Analisi Costi e benefici E quindi il report È molto Molto approfondito Dettagliato Sì sì Molto dettagliato E tra le tante cose Che fanno però Che è forse Per me La più interessante È appunto Quella di Analizzare Tutte le Varie hype Le varie news Le varie sperimentazioni Progetti operativi E così E Delineare Ciò che emerge Come utilizzo applicativo Reale Cioè Vanno a guardare Tutte le stronzate Che vengono scritte E vanno a dire Ok Ha senso Questo progetto Perché lo stanno Effettivamente usando Ha un'applicazione L'abbiamo testato E funziona Oppure È un È un fake Serve solo per speculare Da arricchire i founder Tra Leggo l'ultimo report Il report del 2019 Quello di quest'anno Non so Quest'anno come arriverà A causa coronavirus Però Aspettiamo Volenterosi E Per il Per il 2019 Delineano Cinque Grandi Applicazioni Che secondo loro Secondo i loro studi Hanno Hanno un senso E in cui ci sono Degli operatori attivi Ecco Interessante Che sono Allora Il primo Ed è anche il più avanzato Ovviamente È quello finanziario Quello che si è attivato Viene anche da sé Direi Esatto È quello che ha Di fatto Lanciato La tecnologia bitcoin Nel mondo Quindi bitcoin Cioè blockchain Nel mondo Quindi bitcoin Settore finanziario Per intenderci Però poi Ci sono Operatori attivi Cioè anche Grandi operatori Nel tema Nel tema Del settore Agroalimentare Eh sì La filiera La filiera Infatti cercano Questi interpreti Di sfruttare La blockchain Proprio per tracciare I prodotti Lungo la filiera Produttiva Del cibo In sostanza Dei prodotti Semilavorati Dei prodotti Lavorati E del prodotto Finale E quindi si è dimostrato Utile E noi Mi pare che Avevamo parlato Dell'utilizzo Di carrefour Tempo fa Di blockchain Mi pare Che io Sì 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 Te lo confermo Poi Secondo Terzo Scusa Perché prima finanziario Poi settore agroalimentare Terzo settore In cui ci sono Degli operatori attivi Sono quello Delle utilities Con progetti orientati Agli scambi di energia Peer to peer Cioè Che sono Sistemi orientati All'aumentare L'efficienza Nel trading Dell'energia Cioè come sappiamo Noi Da una trentina D'anni L'utente finale Oltre a comprare La sua energia Dal produttore centrale Quindi la centrale Elettrica L'Enel O quello che dir si voglia Che adesso il mercato È libero anche lì Può anche diventare Un produttore Con il geotermico Con il solare Soprattutto con le nuove Tecnologie Bravo Con il microeolico E così Solo che Ci si pone un problema Se la mia fonte Di energia rinnovabile Che sto sfruttando Non segue Il mio reale utilizzo Io l'energia Che ho in più In quel momento La butto La butto E per legge Fino a un certo momento Mi pare di ricordare Che era obbligatorio Venderla Al distributore centrale Adesso non lo è più E il grande Elon Musk È venuto in nostro soccorso Con delle mega batterie Da muro Che si chiamano Si può immagazzinare Con i Tesla Power Mall O comunque Con degli accumulatori C'è anche chi propone In realtà Scambi peer to peer Cioè Il surplus Può andare ad alimentare Per esempio Un mio vicino Che in quel momento Necessita di energia E viceversa Ecco In questo campo L'utilizzo della blockchain Si è dimostrato utile Per regolare Gli scambi In modo che non siano Che non vadano A scapito di nessuno In modo da far tendere Tutto il sistema Ad un equilibrio Di scambio Di energia peer to peer Davvero Molto interessante Questo Poi La logistica Che è un Anche questa Con l'alimentare Viene da sé L'abbiamo parlato Tante volte Stessa cosa In sostanza È il tracciamento Quello che per adesso Per noi È il tracking code Di un pacco Esatto Potrebbe essere gestito In maniera centrale Tramite Tramite una blockchain Come C'è un servizio Che ho utilizzato Anche ultimamente Perché ho comprato Delle cose dalla Cina Che si chiama Parcel Mi pare che utilizzi Dei principi Stia iniziando a usare Principi di Blockchain In quanto Io avevo due Diversi spedizionieri Dalla Cina Ma il tracking code Funzionava Sullo stesso servizio Cioè loro erano in grado Di gestire Farmi vedere In che nave Era il mio Il mio pacco E infine Quinto applicazione Che è stata rilevata Dall'osservatorio Blockchain Distributed Ledger Del Politecnico Sono le assicurazioni Con diverse Compagnie assicurative Che stanno Lavorando Alla creazione Di prodotti Come Polizze Che assicurano Anche di questo Ne avevamo parlato Tempo fa Che assicurano i clienti Sul ritardo degli aerei E permettono Il rimborso automatico In caso di ritardo Non so se vi ricordate Adesso non mi ricorderò mai Quindi in questo caso Qui è una blockchain Con uno smart contractino Esatto Esattamente Esattamente Molto bello Molto interessante Allora Sicuramente sono Iniziative utili Perché secondo me Consentono Di dare Alla tecnologia Affidabilità Affidabilità Certificata Significa Attrarre Nuovi investitori Nuovi imprenditori E invogliarli Ad investire Ad implementare Queste nuove Tecnologie Ed era ora Fammi dire In ultima istanza Che ci fosse Un progetto Di questo tipo Completamente Made in Italy Esattamente Sì Sì Sono d'accordo Io dopo Nelle note della puntata Vi linkerò il report Del Valeria Portale Che è il direttore Dell'osservatorio Valeria Sì Valeria Una donna Salutiamo Valeria Portale Speriamo che ascolti Il Bitcoin Italia Podcast Esatto E Alla fine di questo Piccolo report Ci sono Quattro Anche quattro Cita Quattro Progetti applicativi Che sono WeTrade Per il mercato Finanziario Vact Per la gestione Documentale La pubblica amministrazione Del comune di Zugo Un comune svizzero Che ha utilizzato Ethereum Per una votazione Di test Su questioni locali E Trade Lens Per la tracciabilità Della Della logistica E dell'operatore Maersk Che è quello Con le mega navi Di mega container Che top Che top Amici Noi ve lo diciamo Sempre Questo è Un mondo Che sta ancora Vivendo Una fase magmatica E primordiale Quindi Le applicazioni Sono veramente Potenzialmente Infinite È una cosa Stupenda Che ci sia Qualcuno Che abbia voglia Di tracciarle E di valutarle Con un approccio Scientifico Ed è importante Che ci siano Iniziative Di questo Tipo Anche in Italia Perché Molta strada Ancora Dobbiamo fare Per Migliorare Il grado Di penetrazione Tecnologica Di cui è dotato Il nostro Tessuto Industriale Oltre che La nostra Pubblica Amministrazione Ne abbiamo Parlato Già Nella puntata Scorsa Del Bitcoin Italia Podcast Continuiamo A stendere Un velo Pietoso Da questo Punto Di vista Senti Caro Guy Brush C'è 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 Un altro Settore Commerciale Che Fa Bizzeffe Che è sfuggito All'osservatorio Che credo sia sfuggito All'osservatorio Ma Che investe Moltissimo In nuove Tecnologie E a volte Ne fa Una vera e propria Ragion D'essere Ti devo raccontare Una cosa Amico mio Questo è un momento Un po' speciale Per me Perché Mi consente Mi costringe Più che mi consente A fare un po' A smascherare La duplicità Del mio ruolo A parte che Ormai Ti segnalo Che è un segreto Cerato molto male Perché Già Tanti ascoltatori Del Bip Show Mi hanno scritto Dicendo Mia Mia Ti ho sentito Di là Quindi ringrazio Che cosa Hai un altro podcast Bene sì Ringrazio tutti quelli Che mi hanno scritto Per farmi complimenti Per il mio La mia altra attività Come tu ben sai Ormai è qualche mese Che settimanalmente Ti tradisco Ti tradisco Su un'altra piattaforma Tra le altre cose Con una host Molto più simpatica E gentile di te Che continui a trattarmi male Esattamente E Come quindi Qualcuno Ha già scoperto In realtà Io tutte le domeniche Produco un podcast Antiproibizionista Che si chiama Stupefatti E che Si occupa Di sostanze Stupefacenti Di politiche Antiproibizioniste Riferite Alle sostanze Stupefacenti Cercando di Parlare Dell'argomento Con un approccio Scientifico Laico Senza tabù Cercando quindi Di combattere Un po' L'approccio Poco Poco Oggettivo Che L'amministrazione Proibizionista Di droghe E sostanze Stupefacenti Nel nostro paese Purtroppo Impone Lavorando A una puntata Speciale Di Stupefatti Che è andata In ordine In onda È stata distribuita Domenica scorsa E che si intitola Il lato oscuro Abbiamo fatto Colpo di scena Ebbene sì Scusa Io faccio degli effetti Fuori onda Perché non so niente Abbiamo fatto una Lunga ricerca Che era focalizzata Sul mondo Del traffico Illegale Di stupefacenti All'interno Del dark web E quindi Io ero molto interessato Di approfondire Questa Ricerca Sia Appunto Per il podcast Stupefatti Ma col doppio occhio Perché sapevo benissimo Che Prima o poi Sarebbe Capi sarebbe saltato fuori In questa ricerca Anche l'argomento Criptovalute E bitcoin Abbiamo raccolto Molto materiale Abbiamo fatto Una ricerca Abbastanza approfondita Lo scopo Di questo Lavoro Che stiamo facendo Usciranno poi Vari articoli È quello Di dimostrare Empiricamente Che Il proibizionismo In termine Sull'argomento Droghe Stupefacenti È fallito Perché È impossibile Proibire Allora A fine puntata Mi citi Degli esempi In cui il proibizionismo Ha funzionato Esatto Non ce ne sono Però Noi si focalizziamo Su questo aspetto Su questo aspetto Il proibizionismo Falliva Miseramente Negli anni Novanta Negli anni Ottanta Negli anni Duemila Fallisce ancora Più miseramente Oggi Con le nuove Tecnologie Che sono a disposizione Di chiunque Semplicemente Proibire Non è l'approccio Giusto Perché È impossibile È oneroso Non porta più Non porta nessun risultato positivo E alimenta Il portafogli Delle mafie E delle organizzazioni criminali Guarda A questo proposito Mi ero interessato In tema Avevo letto Un report Della dea Di qualche anno fa In cui Proprio gli operatori Cioè quelli che andavano Proprio ad arrestare Gli spacciatori Dicevano esattamente Quello che hai detto tu Lo linkerò Perché è molto interessante Vedere Quelli che si occupano Veramente Poi di andare a proibire Ma certo Ti dicono Che non funziona Quindi Adesso Non voglio andare Troppo Off topic Però Noi abbiamo Delle dichiarazioni Della direzione Nazionale Antimafia Che ci dice Che la cannabis Per esempio Andrebbe legalizzata Sì sì scusa Volevo dire Della dea Non ho sbagliato Esatto Quello che cito Anch'io Lo stesso Esatto Esatto Comunque appunto Non andiamo Troppo off topic Chiunque vuole Seguire Questi tipi di ragionamenti Quindi i soldoni Dai hai comprato Qualcosa con i bitcoin No però Ho simulato No però Ho simulato L'acquisto di droga Chiunque è interessato A questi discorsi Può ascoltare Stupefatti Su spotify Su apple music Su itunes Ovunque Distribuito ovunque Come il bitcoin italia podcast Però ho raccolto Parecchio materiale Di ricerca E sono saltate fuori Alcune cose interessanti Sul rapporto Negli ultimi anni Fra criptovalute E appunto Mercato illegale Delle droghe E ne abbiamo spesso Parlato di questa cosa Ma ti do una notizia Che forse È una notizia Falsa notizia Nel senso che Sono capitato Su questo bellissimo report Fatto da una Blockchain analyst E pubblicato Sulle pagine Di Coindu Troverete ovviamente Nelle note Dell'episodio Che analizza Gli andamenti Delle transazioni A mezzo Criptovalute Sul Dark web Sui mercati Illegali E C'è Un aumento Esponenziale Dell'utilizzo Di questa tecnologia Per acquistare Beni illegali Soprattutto droghe Ma non solo Perché sappiamo benissimo Che sul dark web Si può acquistare Qualsiasi cosa Un aumento Esponenziale Anno su anno Con il 2019 Che ha raggiunto Uno dei Traffici Una delle quantità Proprio di Transazioni Apicali Proprio Di sempre Ma oltretutto I primi dati Che ci arrivano Che sono da prendere Con le pinze Perché ovviamente Non è ancora Trascorso abbastanza Tempo Per poter avere Un'analisi Netta e precisa Del mercato Però Tutti gli indicatori Che questi Blockchain Annali Stanno messo in campo Ci dicono che Indovina Che affetto Ha avuto Il lockdown Globale Sul Traffico Di stupefacenti Sul dark web Ah dunque Secondo me Lo ha diminuito Esattamente Non essendoci Appunto Magari Non essendoci più Molto la possibilità Di andare ad acquistare Sostanze in strada Molta gente Sta scoprendo Che Ce la si può fare Recapitare Comodamente a casa In maniera Economica Anonima E direi Con un ottimo Grado di Sicurezza Utilizzando appunto Strumenti per la privacy Il dark web E le criptovalute Quindi senza di rischiare Di essere accoltellato E derubato In un vicolo Esattamente E con un rischio Di essere beccato Dai controlli Doganali Molto Molto Ridotto Direi ridottissimo E più pericoloso Chi l'avrebbe mai detto Che una valuta Censorship Resistant Sarebbe stata utilizzata Per procurarsi Dei prodotti Censurati Vero Guarda Nessuno L'avrebbe mai detto Chi l'avrebbe mai detto Che acquistare Dark web Cocaina Sul dark web È molto meno pericoloso Che andarla a comprare Nella Nella piazza Sotto casa E invece Tutte le statistiche Ci dicono Che è così Per tutta una serie Di motivi Che non voglio approfondire troppo Però Ti volevo parlare Di un dato Che a me ha colpito molto E che è proprio On topic Invece La mia domanda E la mia curiosità Mentre svolgevo Queste ricerche È Quale sarà Il metodo Di pagamento La criptovaluta Più richiesta Dai narcotrafficanti Sul dark web Aspetta Non dirmelo No però Aspetta Fammi fare il ragionamento Perché Il mio ragionamento Era questo È vero che Bitcoin Ha comunque Delle proprietà Di incensurabilità Che la rendono La rendono Molto sicura Da questo punto di vista Però è anche vero Che Noi sappiamo Essere un falso mito Quello secondo cui Una transazione Bitcoin È Completamente Anonima No 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 noi diciamo Sempre immutabile Decentralizzata E trasparente Quindi trasparente Resta proprio Significare Che Esatto Quindi Tu Non ti devi mettere Nei panni Dell'acquirente Ma ti devi mettere Nei panni Del venditore Cioè Se io sono Un acquirente E non acquisto Un chilo di cocaina Sul dark web Perché serve Per il mio uso Personale O per quello Mio e dei miei Amici Acquisterò Una quantità Molto modica La possibilità La possibilità Ad oggi Che il mio acquisto Desti qualche Sospetto E quindi Sia oggetto Di indagine È infinitesimale Quindi a me Bitcoin Come metodo Di pagamento Va benissimo Però Mettiti Nei panni Del venditore Che Presumibilmente Non venderà Solo Un grammo Di cocaina O un grammo Di cannabis A me Ma venderà Centinaia Di migliaia Di grammi Di dosi Ovunque Nel mondo Lui sì Che attirerà Probabilmente Su di sé Degli strumenti Di indagine E quindi Io mi sono chiesto Vorrei sapere Se Questi venditori Prediligono Magari Qualche Criptovaluta Che abbia Un focus Più netto Sulla privacy Tipo ad esempio Monero Oppure Se Comunque Nonostante Tutto Nonostante Quella Percentuale Di rischio Che c'è Prediligono Bitcoin E Il risultato Della mia Indagine È stato Che È schiacciante Anche Da questo Punto di vista La Supremazia Di Bitcoin Io Non sono Sì sì Io non sono Riuscito A trovare Nelle ultime Settimane Un marketplace Di sostanze Stupefacenti Sul dark web Che accettasse Qualsiasi Altra Criptovaluta Che non Fosse Bitcoin Questo Dato Poi È stato Ulteriormente Suffragrato Incrociandolo Con altre Ricerche Condotte appunto Da analisti Internazionali Che Quindi Analizzano Tutto Il Dark web Conosciuto Ovviamente Quello Diciamo Stimabile E la Percentuale È schiacciante Cioè Le transazioni Bitcoin Sono Il 99% Delle Transazioni Illegali Sul dark web Solo L'1% È Va Indirizzarsi Su Altre Criptovalute Ora Questo Secondo me È un dato Molto interessante Dopo ti spiego Come si fa A far che cosa A usare Questa cosa Come venditore E non essere Tracciabili No ma guarda Dimmelo Dimmelo Subito Perché poi Io Ovviamente Ho indagato Anche questo Aspetto Però Voglio coinvolgerti In questa nostra Che deve essere Pur sempre Una conversazione E quindi Dimmi Se tu Vendessi Quintali Di stupefacenti Sul dark web Perché Prediligeresti Bitcoin E Cosa Faresti Per proteggerti Allora Io Prediligerai Monero Ma sapendo Che il 90% Dei miei utenti Avrà dei Bitcoin Sarei costretto A implementare Un sistema Di pagamento Bitcoin Senza più Particolari Preoccupazioni Perché Sono un ascoltatore Del Bitcoin Italia Podcast E so perfettamente Che lo spazio Delle chiavi private Generabili È un numero Esorbitante Nell'ordine Del 10 All'80 Possibili Chiavi private Come vi abbiamo già detto Nelle puntate Tecniche Precedenti È possibile Nella vita Nella vita Umana Nello span Di vita Umana Utilizzare Una chiave Privata Diversa Per ogni Transazione E anche In questo modo Non riusciremo A finire Neanche Ad avvicinarci A finire Le chiavi private Quindi quello che succede Molto probabilmente È che per ogni Transazione Viene generata Una chiave pubblica E quindi Una chiave privata Lato venditore E vengono accumulati Gli acquisti In questo modo Da lì in poi Cosa faccio Io venditore Per poter Utilizzare Questi Bitcoin Senza essere tracciato Whirlpool CoinJoin O Samurai Quindi faccio passare Questi Bitcoin Che ho inserito In queste chiavi private Che non hanno una storia Sono state generate Solo per questa transazione Quindi di fatto C'è solo un mittente Certo Che è l'acquirente E il destinatario Poi questa Unspent in transaction Questo output Dell'acquirente Che diventa Il mio possibile input Passa attraverso Il famoso meccanismo Di CoinJoin Che non vi spiego Per non fare torto Alla vostra intelligenza Perché ve lo sarebbe Già la quarta volta Che lo rispiego Esatto E lo ridirigo Verso i wallet Che poi sono i miei wallet Operativi Con cui ci compro le cose Quindi in questo caso Si serve un po' più Di conoscenza tecnica In realtà Per implementare Un sistema di pagamento Di questo tipo Però Però stiamo parlando Di super professionisti Esatto Stiamo parlando di gente Che già riesce a creare Il metodo è esattamente Il metodo che usano Hanno addirittura Come dire Un widget Implementato Nei loro Nei loro siti Che genera La chiave pubblica Automaticamente Modificandola Ogni transazione Esatto Esatto In questo modo Tu hai sempre solo L'acquirente Riferito a una A una transazione sola E poi da lì in poi Ci faccio quello che voglio CoinJoin Mixing Svariate tecniche Di offuscamento Della transazione Su blockchain Cosa che sta facendo Mangiare le dita A tutti gli analisti Di blockchain In questo momento Eh sì Eh sì Non solo poi Tu I magazzini Bitcoin Che sono gli stessi Con cui andrai A pagare i fornitori Nel caso tu sia Un semplice Rivenditore Esatto Oppure Se sei una struttura Più organizzata Quindi Hai Al tuo interno Dei laboratori Che sintetizzano Per esempio Sostanze Come LSD MDMA Quindi sostanze chimiche Che sono frutto Di laboratorio Se quindi tu hai Un laboratorio Che Sintetizza Per te Per i tuoi Mercatini illegali Sul dark web Andrai a comprare Le sostanze primarie Quindi Le I prodotti chimici Che vengono Quasi tutti Dalla cina Che ti servono Per Poi Sintetizzare Ciò che andrai A vendere Nel dark web Eh sì Quindi diciamo Che in quella filiera Lì sta già funzionando Molto bene In quella filiera Lì Vi confermo Proprio stavolta Per esperienza Per esperienza diretta Perché Appunto Abbiamo fatto Un lavoro Di indagine Con Barbara Appunto La mia socia Di stupefatti Proprio mirata Sulla questione Che Funziona Molto bene L'implementazione Di bitcoin E È di fatto Lo standard Con rarissime eccezioni I consumi Sono in netto aumento Le percentuali Crescono del 70% L'anno Quindi È un mercato Molto florido La cosa Che a me Veramente Ha colpito Tantissimo È stato Vedere L'interfaccia Grafica Di questi Siti Guybrush Cioè Sono Più user friendly Di amazon Davvero Madonna mia Una cosa Che mi interessa Di più Domanda Ma la consegna A che cosa È affidata Al servizio postale Classico Allora La consegna È affidata Al servizio postale Classico Tu puoi Addirittura Con un piccolo Sovrapprezzo Pagare Delle Spese Delle spedizioni Veloci Quindi Alcuni Consegnano In 48 ore La roba Fantastica Tra virgolette Però Ammirevole Da un punto di vista Di organizzazione È che La spedizione Viene fatta Ovviamente Con pacco anonimo Vengono utilizzate Delle pellicole Schermanti Che inibiscono I raggi X E i controlli Tecnologici Doganali E la sostanza Ovviamente Viene Confezionata Sotto vuoto E con Delle apposite Pellicole Antiodore Quindi Di fatto È Undetectable Cioè L'unica possibilità Che la dogana Ha di Scovare La spedizione È attraverso I controlli A campione Randomici Che fanno Che li aprono E guardano Esatto La dogana Apre una percentuale Di ogni pacco Però Questo metodo A campione Consente di analizzare Una quantità Infinitesimale Di Sostanza Scusami di sostanza Di pacchi Quindi la possibilità Di finire In questa maglia Di ispezione È veramente Limitatissima Molto bello Bravo Detective Ricchi Grazie ragazzi Comunque mi fermo qui Perché stiamo andando Tutti quanti Off topic Troppo E poi Rubiamo troppo spazio Al Bip Show Però era una cosa Che secondo me Era carina Da dire anche qui Tra i casi di utilizzo Che sono sfuggiti Al più osservatorio Del Politecnico Esatto Esatto Chiunque voglia Approfondire Questo argomento Può ascoltare L'episodio numero 10 Di Stupefatti Intitolato Il Lato Scuro È disponibile Su Spotify iTunes Apple Podcast Google Podcast È uscito Questa domenica Quindi ci sentiamo lì Con tutti quelli Che sono interessati Guy Brash Secondo me Con la nostra scaletta Siamo andati Un po' lunghi Quindi Vorrei che tu Mi parlassi Di BTC Pay Allora BTC Pay Appunto Per collegarci Al discorso Che hai appena fatto Esatto Perché poi È perfettamente In tema In realtà È un sistema È un modo Di implementare Il sistema Di pagamento In criptovalute E soprattutto Principalmente Bitcoin Sul proprio E-commerce Ed è interessante Ce ne sono tanti Ormai Però Perché Noi del Bitcoin Italia Podcast Citiamo BTC Pay Perché è leggermente Diverso dagli altri Cioè Voi sapete Che noi Cerchiamo sempre Anche Con Il nostro Sito Di Divulgare E di sensibilizzare Gli ascoltatori E i visitatori Del nostro sito Al concetto Di privacy Al concetto Di Demandare Di Decentralizzare Di Cedere I propri dati Il proprio comportamento Sul web Quindi abbiamo cercato Di essere attenti A non Implementare I vari Facebook Pixel Google Analytics Eccetera Eccetera Che poi si propagano Su Come dei cancheri Come dei cancheri Difficilissimi Da estirpare E quindi Siamo sensibili A questo tema Ecco La parte Interessante Di BTC Pay Server È che Loro I ragazzi Implementano Permettono Di implementare Il sistema Di pagamento In criptovalute Sul proprio e-commerce In maniera Realmente Libera Decentralizzata E open source Quindi di fatto Libera Decentralizzata E trasparente E quindi Mettono a disposizione Una serie di Pacchetti Su github Per La maggior parte Dei Dei Degli e-commerce Esistenti Quindi adesso Sono Non ero sul sito Ma volevo farvi L'elenco Perché sono Veramente I maggiori Che sono V-commerce Di wordpress Drupal Magento Prestashop E poi c'è anche Chiaramente L'integrazione Custom Cioè sul vostro sito Fatta come volete voi E la parte Molto interessante È che Non ha Non ha intermediari Quindi è un pagamento Wallet to wallet Cioè dal wallet Del cliente Al vostro wallet Che O i vostri wallet O le vostre chiavi Come per esempio È conveniente fare Nel caso in cui Vendiate Sul dark web Le sue caratteristiche Lui di fatto Essendo un progetto Gratis e open source Eredita tutte le qualità Resilienti Di bitcoin Quindi è completamente Decentralizzato È censorship resistant Quindi non ci sono Nessuno può Togliervi questo Metodo di pagamento Invece Come si accoppiamo Dall'esperienza Del nostro Esatto Domenico Collaboratore Domenico Lui si è visto Chiudere le porte in faccia Dai maggiori Sistemi di pagamento Online Come paypal O altri E in questo caso In realtà Nessuno può venire a dire Non ti accetto Il pagamento Perché È proprio Wallet to wallet È una serie di tool Che serve per Velocizzare L'implementazione Di un pagamento On chain È un software Non c'è un vero e proprio Intermediario Che quindi fa anche Dell'arbitraggio Non c'è KYC È un automatismo Non devi aprire Nessun account Non c'è KYC Non c'è Non c'è niente È un automatismo Che scrive direttamente On chain E voi potete gestire Tutti le varie Le varie feature tipiche Di un sistema Di pagamento e commerce Quindi c'è anche il reso C'è Nel caso in cui Magari l'ordine Non va bene C'è la La notifica Automatica Della transazione Avvenuta Perché sapete che C'è un tempo tecnico Prima che Una transazione Su blockchain Possa dirsi Confermata E quindi Permette In questo momento Agli sviluppatori Anche se vedo che Tantissimi Plugin Per wordpress Così sono molto intuitivi E ci sono un sacco Di documentazioni E quindi Tra tutti i sistemi Di pagamento Che ho visto Bitpay E altri Che di cui Non mi viene il nome Adesso Insomma Che hanno Tutti il difetto Di essere Comunque Delle aziende Che magari Vendevano il servizio Di sistemi di pagamento In altre In valute classiche O in altre metodologie Hanno deciso Di implementare Anche il pagamento Bitcoin Però di fatto È sempre La solita solfa Cioè tu paghi L'azienda Tu cliente Mandi bitcoin All'azienda L'azienda Manda i bitcoin Al venditore Invece Invece In questo caso Non c'è niente Di tutto questo Non c'è intermediario Non c'è intermediario Per cui È per questo Che ci sentiamo Di segnalare Questo BTC Pay Come sistema di pagamento Per Anche per Secondo me Facilitare un pochino La mass adoption Perché potrebbe passare Oh Qua volevo Qua ti volevo Far cascare Asino Casino Che sei altro Dimmi Dimmi No 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 Perché È questo Il punto Il nodo scoperto Il brufolo purulento Del nodo gordiano Esatto Esattamente Della questione Perché Noi Questo Lo diciamo A beneficio Di tutti Quelli Che ci Ascoltano E magari Hanno Un'attività Che comprende Anche Dell'e-commerce Spesso Noi Riceviamo Delle mail Da amici Che magari Sono dirigenti D'azienda O che comunque Hanno Anche Vendono Anche Online Per quale motivo Guybrush Secondo me Queste Iniziative Queste Tecnologie Sono importanti Ed è giusto Che un podcast Come il nostro Non solo Ne segnali L'esistenza Ma Faccia un piccolo Lavoro Redazionale Di Preselezione Per Segnalarne Una In particolar Modo Perché Il ragionamento Che io volevo Fare con te Partendo da BTC Pay È questo Negli ultimi Anni Con Le dovute Oscillazioni Che anche In tempi Recenti Abbiamo visto Però Si può dire Che Il bitcoin Si è Decisamente Stabilizzato Da un punto Di vista Di Fluttuazioni Di Quotazione Non sono Più Anni Estremamente Burrascosi Come Quelli Che Come Come Quelli Degli esordi Di questa Tecnologia Dal 2018 E 18 In Poi C'è Stata Una Grande Crescita Poi Si è Assestata E Ha Raggiunto Un livello Abbastanza Consistente Di quotazione Sul mercato Di credibilità Di credibilità Eccetera 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 Il market cap Si è molto allargato Ora Io Forse un po' ingenuamente Contemporaneamente A tutte queste cose Mi sarei aspettato Non ti dico La mass adoption Ma Che Cominciassero Ad esserci Segnali Netti Di Una Qualsivoglia Adozione Ti faccio Una domanda Dimmi L'ultima Volta Che ti è capitato Di andare Su un sito Internet Che utilizzi E dire Ah Tò Hanno aggiunto Il pagamento In bitcoin Beh Io Non faccio testo Secondo me Perché oggi No vabbè No non faccio testo Perché io Devo Compro Spesso Server Eh vabbè Ma quelli sono gli unici Che li hanno sempre implementati Eh sì Parliamo di cose Non tecnologiche Cose non tecnologiche Che ho comprato In bitcoin Fammi pensare Ho comprato Una cosa Ma non necessariamente Che tu abbia comprato Che abbia visto Sul loro sito La possibilità Di comprare Sì effettivamente Effettivamente Sì c'è New egg Famoso Che ho utilizzato Spesso Però anche lì Ho comprato Componenti elettronici Cioè capisci il mio ragionamento Sì sì Diciamo cifre Allora Il discorso Di adesso È che Abbiamo già fatto Tante volte Al momento attuale Se tu sei Per esempio Un ristorante Diciamo Che ho un sushi Che consegna Domicilio Puoi implementare Bitcoin Per fare in modo Che le news Locali Dicano Wow Il primo ristorante Cioè Fa un po' Di marketing Un po' Scusa Mi posso interromperti Un attimo Lascia perdere Il ristorante Guybrush Pensiamo a rivenditori Di rubinetti online Grossisti Cioè Il ristorante Il servizio Al cittadino È una roba Un po' Secondaria Non lo so Il B2B Tu intendi Sì Grandi rivenditori Di caldaie Cioè È un'opzione È un'opportunità In più Che verrà utilizzata Da una piccola fetta Dei tuoi clienti Quindi Una piccola Parte del tuo Fatturato Andrà in Criptovalute Perché no? Secondo me Perché non lo sai Neanche No esatto Credo che in Quell'ambito lì Il concetto sia Quello Ma è il lavoro Che sta facendo Giacomo Zucco Con la sua Bcademy Certo Molto probabilmente Lui fa corsi A manager Che devono capire Se ha senso Implementare Blockchain Bitcoin E tutte queste cose Che sentono dire Certo Anche perché Tu mi dici Dalla tua esperienza Dalla tua indagine Che in una filiera Come quella Delle sostanze stupefacenti Funziona perfettamente Perché sia L'utilizzatore Che il rivenditore Che il fornitore Possono essere Possono utilizzare Bitcoin Per lo scambio di valore Quindi in una filiera Altrettanto Unita come potrebbe essere Quello che hai detto prima Il rivenditore di rubinetti Che deve comprare La manopola Dall'acciaieria Funzionerebbe ugualmente Anche lì Forse anche in maniera Più rapida Soprattutto perché ormai Questi componenti Sono Completamente distribuiti Su tutto il pianeta Quindi eviterebbero Tutti i dazzi Doganali Scambi Area Sepa Soprattutto Quello che Secondo me Sfugge a tanti imprenditori E che facendolo adesso Attiri una fetta Di clienti Che sarà infinitesimale Ma che c'è Perché Non avresti mai avuto prima Se a te Si rompe la caldaia E la devi cambiare E vai su due siti E uno accetta Il pagamento in Bitcoin L'altro no Tu da chi compri? Ah sì Io sicuramente Prediligo sempre Dove posso usarli Sì sì Chiaramente Sì sì Beh però Sai io Cioè faccio un podcast Che si chiama Bitcoin Italia Forte È vero Però come Come noi siamo qui a parlare Sappiamo che ci sono Centinaia e centinaia Di amici Che tutte le settimane Ci ascoltano E che probabilmente Anche loro Chi grazie a noi Chi da solo Si è comprato Criptovalute E se ci fosse Il suo sito preferito Che accetto Questo pagamento Tolti gli odler Sfigatati Lo utilizzerebbero volentieri Hai ragione Hai ragione Infatti Allora BTC Pay Va proprio A inserirsi Lì Cioè nel senso Che lo puoi implementare Senza bisogno Di sottoscrivere Contratti Con nessun tipo di È un tool Molto facile Da mettere Sul vostro sito Amici del Bitcoin Senza chiedere a nessuno Esatto Amici all'ascolto Se avete delle aziende Se avete delle attività Che fanno per esempio E-commerce O che hanno Una gamba Del proprio settore Vendite Nell'e-commerce E non avete ancora Implementato Bitcoin Mandateci una mail Uno coglie questa mia Nuova call to action Di oggi E ci fa sapere Che cosa Guybrush Siamo in ritardissimo Avevamo un sacco di mail Da leggere Le leggeremo Settimana prossima Scusateci C'erano anche Di ragionamenti Interessanti da fare Ma come al solito Siamo indisciplinati Nel seguire La nostra scaletta In maniera puntuale E pedissequamente Che seccatura Lasciamelo dire Che seccatura Ricordatevi Perché è Importantissimo Di supportare Il Bitcoin Italia podcast In ogni modo Che vi è possibile I modi In cui è possibile Li trovate Elencati Nella sezione Supportaci Del nostro sito Bip.show Continuate a scriverci La nostra mail È Show Chiocciola Bip.show Mettete un like Alla pagina facebook Del Bitcoin Italia podcast Invece su twitter Dove ci trovano I nostri amici Guy? Su twitter ci trovano La nostra pagina ufficiale Nostro handle L'ufficiale show Bitcoin Italia podcast Che è Bip underscore show Oppure privatamente Al mio Che è Guy Brashino E quello di Ricky Che è R-I-K-K-I-6-I-X-X È proprio lui È proprio lui Ragazzi Grazie mille Di averci ascoltato Anche questa settimana Guy Brash È stato Anche divertente Questa settimana Oh vatti ascoltare L'episodio di Stupefatti Che so che tu non l'hai Stupefatti Giusto Giusto Mi raccomando Guarda che poi ti interrogo Perché voglio avere Il tuo parere Sull'indagine Va bene Fallo sentire anche a Isabella No non è vero dai No no Isabella no Ah Stupefatti È vietato ai minori Di 18 anni Possono ascoltarlo Lei non saprà niente Fino ai 20 Sì Sai che cosa saprà già Isabella 20 anni Che noi saremo To the moon Ciao Ciao